Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per il trentatresimo appuntamento. Innanzitutto desidero ringraziare tutti voi perché il canale sta avendo, devo dire, un successo inaspettato. Sono molte, tra l'altro, le nuove iscrizioni e questo ovviamente vi fa molto molto piacere. L'argomento che voglio trattare questa sera insieme a voi è un po' diverso dal solito, nel senso non farò una classica recensione alle quali vi ho abituato, ma tratterò un argomento che mi è stato anche fortemente caldeggiato da alcuni di voi e da una persona in particolare che si chiama Pietro e che ringrazio veramente molto perché è una persona che mi sta molto vicino, mi segue con affetto, del resto come tanti altri di voi e quindi è ovvio che sia molto molto positiva la sensazione che può. Bene, con la vista sera sarà uno pseudo tutorial su che cosa? Sulla manutenzione del coltello, soprattutto se utilizzato in natura, come direbbe il titolare del canale Abilis Channel, una persona estremamente preparata ed estremamente chiara nelle sue spiegazioni, che seguo con piacere e che consiglio a tutti voi di seguire. Persona decisamente particolare e molto 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 preparata. Detto questo, molti dei coltelli che vi ho presentato nei precedenti appuntamenti erano coltelli realizzati spesso in acciai inox piuttosto resistenti alla corrosione sia dal punto di vista chimico che dal punto di vista del trattamento superficiale che in molte case danno i loro coltelli e che spesso è, diciamo, deposto con tecnologie direi piuttosto sofisticate. In passato le lame generalmente erano prive di questo genere di protezione, spesso risultavano con un trattamento lucido oppure con un trattamento opaco al più potevamo trovare delle lame sabbiate, questo diciamo che consentiva, oltre che una maggiore resistenza superficiale appunto all'attacco delle ossidazioni, anche a ridurre quelli che erano i riflessi, quindi a rendere la lama decisamente più tattica e più adatta anche agli scopi militari. Da un po' di anni a questa parte, come ripeto, le case produttrici utilizzano dei trattamenti superficiali sulle loro costruzioni decisamente all'avanguardia. Alcuni di queste utilizzano ad esempio i carbonitruri di zirconio come l'extrema razio che oltre a proteggere la lama da, diciamo, la corrosione passivante o meglio, l'ossidazione passivante, contribuiscono anche ad elevare la durezza superficiale. Alcuni altri utilizzano i trulli di titanio, altri ancora il PTFE, quindi il teflon, sostanzialmente è un deposito che viene realizzato, o meglio, viene applicato alla lama con processi chimici post rinvenimento, quindi post tempra rinvenimento. Negli ultimi anni l'evoluzione chimica ha portato nuovi materiali, tra i quali anche il Cerakot e il Gankot. Il Gankot molti di voi lo conosceranno per essere un trattamento utilizzato moltissimo sulle armi da fuoco, resistente all'abrasione, resistente al grande calore che si produce nell'utilizzo di un'arma, ovviamente. Con il Cerakot si è fatto un ulteriore passo in avanti perché si tratta di una nanotecnologia ceramica, quindi sulla lama vengono deposti degli strati di ceramica applicati ad alte temperature con una matrice estremamente piccola e coesa. Questo fa sì che la resistenza all'abrasione meccanica e la resistenza ovviamente chimica sia ai massimi livelli. Quindi il Cerakot è attualmente la miglior risposta che si possa dare in termini di trattamenti superficiali. Ovviamente vi sono poi degli acciai come la famiglia dei carboniosi, in particolar modo quelli utilizzati in alcune case americane come ad esempio la TOPS e la ESEE, che appunto utilizzano acciai della famiglia 1000, nello specifico il 1095, che è quello a più alto tenore di carbonio, è quello che maggiormente si presta agli utilizzi gravosi. Questi acciai, come ben sapete, hanno purtroppo però la propensione a corrodarsi se non protetti adeguatamente con grande facilità, producendo quella che di fatto non è null'altro che ruggine. La ruggine è prodotta attraverso l'interazione con l'ossigeno in principal modo, quindi si tratta di un processo aerobico che va a produrre degli ossidi di ferro idrati e carbonati. Questo permette purtroppo al metallo di ossidarsi in maniera, direi, piuttosto intensa e di produrre questa ruggine superficiale che con il tempo può diventare ovviamente penetrativa. In un primo momento si produce una ruggine superficiale che tende a sfaldarsi e ad esporre ulteriormente il metallo che si trova al di sotto, quindi consentendo di fatto quello che è un processo automatico e che porta, se non fermato ovviamente, a una distruzione sistematica dell'acciaio o del ferro sul quale purtroppo la corrosione agisce. Per quanto riguarda invece il discorso degli acciai inox, l'inossidabilità, come ben sapete, è portata in principal modo dal cromo. Il cromo che viene inglobato nella lega d'acciaio permette di fatto all'acciaio stesso, nella peggiore delle ipotesi, di innescare un processo che si chiama ossidazione passivante. Praticamente quello che avviene in realtà è la produzione di ossidi, dello specifico ossido di cromo, che legandosi all'ossigeno produce di fatto uno strato superficiale che generalmente tende ad essere opaco che protegge dall'ulteriore corrosione che potrebbe andare a innescarsi. Questo garantisce all'acciaio inossidabile di mantenersi a lungo in ambienti umidi, in ambienti soggetti ad esempio a corrosioni chimiche come il salino, che sicuramente saprete essere uno degli agenti corrosivi più devastanti per gli acciai martensitici. Ora, molte sono le cause che producono corrosione, passivante nel caso degli inox e ossido di ferro, vero e proprio nel caso dei carboniosi. In realtà il processo si innesca, come ho già poc'anzi detto, non solo in presenza di ossigeno, ma anche l'anidride carbonica, l'anidride solforosa sono sicuramente causa di depauperazione dell'acciaio stesso e quindi di inneschi corrosivi che, ripeto, se non frenati possono dare adito a un danneggiamento delle lame piuttosto ingente. Ora, per quanto riguarda i nostri coltelli, soprattutto nell'utilizzo outdoor, anche i migliori acciai, se utilizzati in condizioni gravose e di umidità piuttosto ingente, debbono essere a un certo punto manutenzionati. Questa è sempre una buona norma che consiglio a tutti voi. Quando lavorerete, ad esempio, a stretto contatto con vegetazione fresca, perché non dimentichiamoci che con il tempo, comunque sia, l'umidità tende ad agire in maniera subdola nei confronti delle vostre lame. Quindi quello che posso consigliare è, dopo un utilizzo prolungato in condizioni climatiche avverse, è sempre buona norma, se possibile, smontare il coltello, ispezionare soprattutto i codoli, che risultano spesso nascosti e quindi fonte di umidità e di ristagno di sostanze vegetative che possono comunque danneggiarle sul lungo termine, e di sporcizia. La sporcizia è sicuramente un'altra delle cause che sommate all'umidità possono in qualche misura crearvi qualche problema. Ora, un coltello outdoor ben realizzato, generalmente, dovrebbe sempre avere una manicatura smontabile. Nel caso specifico ce ne sono di vario tipo. Ovviamente, se si tratta di un full tang, avremo delle guancette applicate con bulloneria, spesso torx oppure abrugola, oppure delle manicature realizzate, ad esempio, in materiali sintetici come il forprene, il kraton, il G10 e anche la micarta. La micarta che è un composto di carta appunto e resine epossiliche che vengono poi cotte al forno e lavorate meccanicamente per assumere le forme più disparate che vorrete dare al vostro coltello. Per il G10 si tratta di un composto di poliamide e fibra di vetro estremamente efficace, estremamente resistente agli urti e all'abrasione superficiale, dotato di grande grip e che permette anche una lavorazione complessa, quindi potrà assumere forme più disparate che si vorranno dare al coltello. Seguendo il profilo dei vari incavi e delle varie geometrie che vorremmo dare. Ora, come procedere per una manutenzione efficace di un coltello? A prescindere che si tratti, come ripeto, di un carbonioso o di un inox. Ovviamente, se avremo un coltello realizzato in acciaio carbonioso, le attenzioni manutentive dovranno essere certamente maggiori e tese ad asportare, come ripeto, tutte le possibili tracce e accumuli di sporcizia, umidità e depositi vegetativi che potrebbero andare a danneggiare anche visivamente, perché non dimentichiamo che sono pochi gli acciai cosiddetti antimacchia. In realtà, sono veramente pochi, se escludiamo i sinterizzati che sono realizzati con tecnologie veramente molto molto avanzate e di una purezza chimica direi unica. L'N690, come ad esempio, fa parte di questi acciai antimacchia, pur essendo realizzato, diciamo, con procedimenti di fonderia tradizionali. È un acciaio estremamente utilizzato, ad esempio, dagli artigiani, perché appunto ha una finitura davvero eccellente, mantiene la sua lucidità per lunghissimo tempo e questo anche grazie al tenore di carbonio molto molto elevato, perdono, scusate, di cromo, molto molto elevato. Questo fa sì appunto che l'eventuale ossidazione passivante, se presente, sia davvero davvero trascurabile. si potrà certamente procedere con un ripristino molto veloce utilizzando i classici lucidatori per metalli che possono essere ad esempio l'onnipresente Seedol che ancora oggi io personalmente ritengo sicuramente il migliore e con piccole attenzioni che riguardano ad esempio anche i foderi. I foderi sono nel caso di attività all'aperto prolungata un neo se vogliamo soprattutto se realizzati in cuoio perché il cuoio ovviamente per sua stessa natura tende a mantenere l'umidità tende a bagnarsi facilmente quindi consiglio quanti di voi abbiano guaine in cuoio di dotarsi se utilizzati all'aperto in maniera continuativa di prodotti isolanti che spruzzati sulle cuciture e sulle superfici in pelle appunto permetteranno al vostro fodero di diventare sostanzialmente impermeabile questo è una cosa estremamente importante perché il fatto di non trasferire alla lama depositata al suo interno queste molecole d'acqua di fatto sarà un grande vantaggio per conservare il coltello a lungo nel migliore stato per quanto riguarda invece i foderi in caidex e in cordura ovviamente la situazione è notevolmente migliore perché le case costruttrici tendono innanzitutto a realizzarli con materiali di facile asciugatura guaine in polimero sfilabili dall'interno del fodero in cordura stesso e quindi facilmente ispezionabili e lavabili e quelle in caidex termoformate sulla forma precisa della lama con dei fori dedicati per lo scolo dell'acqua quindi questo consentirà certamente un utilizzo diciamo maggiormente spensierato ecco per quanto riguarda appunto la manutenzione consiglierei dopo lo smontaggio e l'ispezione del codolo di lavare il coltello con semplicemente acqua e sapone un sapone un detergente che non sia particolarmente acido potrà andare molto bene utilizzando magari un vecchio spazzolino da denti che vi permetterà di penetrare anche nelle zone che non sarebbero facilmente raggiungibili come ad esempio fori piccole gole scola sangue e piccoli incavi che sono presenti sia sulla faccia del coltello stesso sulle due pagine come nel codolo che generalmente risulta scaricato e quindi con presenza di fresature e fori piuttosto piuttosto marcati ora fatto ciò un'asciugatura molto attenta sicuramente sarà sufficiente a mantenere il vostro coltello integro per tantissimo tempo un'asciugatura molto efficace può essere quella che si può ottenere ad esempio con un normalissimo fonda capelli utilizzato sulla lama ad aria ovviamente calda fino a che il metallo stesso non avrà diciamo assorbito il calore prodotto dal phone quindi permetterà una dissipazione totale totale dell'eventuale umidità che dovesse rimanere successivamente anche sui coltelli trattati con rivestimenti superficiali è sempre buona norma dare una passata di olio o di prodotti lubrificanti alternativi che potrebbero anche essere perché no un olio motore si tratta di olio estremamente protettivo quindi sicuramente adatto a evitare l'insorgenza di piccole problematiche a livello superficiale il sempreverde vd40 può essere tranquillamente considerato un buon compagno sotto questo aspetto si possono poi usare oli ovviamente per armi da fuoco ancora più raffinati ancora più efficaci dal punto di vista chimico il ballistol è un altro olio molto molto valido che si può utilizzare anche se non di facilissima reperibilità quindi il consiglio ripeto che posso darvi è quello sempre di mantenere il coltello nelle migliori condizioni perché soprattutto per chi lo utilizzerà su terreni diciamo difficili e quindi in un'ambientazione forestale in gite fuori porta che vanno al di là della classica gita domenicale e quindi escursioni che possono durare anche qualche giorno può fare veramente la differenza avere un coltello manutenuto in ottime condizioni questo vi permetterà davvero di poterlo sfruttare al massimo livello e nella sua totalità per quanto riguarda i carboniosi trattati a gun coat oppure oppure a polveri epossiliche spesso le manicature ad esempio sui tops non risultano smontabili al punto che addirittura smontarle farebbe decadere la garanzia perché la tops applica sotto le guancette a contatto col codolo uno strato di collante che tende proprio a isolare completamente il codolo dalle guancette quindi dalla manicatura stessa e a ridurre drasticamente la possibilità che dei liquidi possano introdurrisi ovviamente la lama trattata a polvere epossilical avrà solo il filo libero che non dovrà essere a sua volta trascurato questo è estremamente importante quindi anche il filo dovranno essere dedicate quelle attenzioni di cui ho parlato finora pulirlo regolarmente con un panno umido se possibile e lubrificarlo quanto prima dopo l'utilizzo prima di riporlo nella guaina l'ideale sarebbe anche di evitare in questo caso di riporre le lame in acciaio al carbonio semplice nel loro fodero se utilizzate da poco e quindi di fatto sporche questo perché il fatto di inserirle nella guaina macchiate o sporche di vegetazione praticamente creerà a livello chimico una situazione ideale perché gli agenti esterni sommati ripeto all'ossigeno possano effettivamente incidere sulla qualità stessa dell'acciaio con il quale il coltello è stato realizzato quindi di fatto macchiandolo di fatto innescando piccoli processi di corrosione superficiale che pur non essendo ovviamente penetrativi saranno comunque il preludio a situazioni più gravi che si potrebbero produrre se trascurati ulteriormente bene cos'altro si può dire su questo argomento ovviamente ho parlato poc'anzi degli acciai sinterizzati e qui si apre un capitolo completamente nuovo nella metallurgia perché come molti di voi sapranno i processi tecnologici utilizzati per questi acciai sono veramente di eccezionale livello la purezza chimica e cristallina dell'acciaio così derivato è eccellente e i minerali utilizzati le sostanze chimiche utilizzate nell'analizzazione di questi acciai permettono all'acciaio stesso di avere una resistenza direi a 360 gradi per quanto riguarda tutte le prove alle quali li si potrà sottoporre dall'abrasione meccanica ai carichi inflessionali alla corrosione passivante all'attacco di sostanze chimiche fino alla resilienza che comunque rimane altissima grazie al fatto che questi acciai vengono realizzati di fatto attraverso la metallurgia delle polveri quindi una produzione industriale direi estremamente raffinata con una possibilità di impurità ridotte davvero ma davvero ai minimi termini e questo dà vita ad acciai superlativi come potrebbe essere ad esempio l'americano S30 S35VN o il Bollerudelon M390 o i vari acciai come gli Elmax ad esempio quindi parliamo veramente di una categoria che non si può neanche lontanamente avvicinare a quella degli acciai tradizionali per quanto qualitativi ovviamente tutto questo ha un costo è chiaro che un coltello in acciaio sintetizzato potrà avere diciamo un costo d'acquisto mediamente piuttosto alto questo però vi permetterà di avere davvero il massimo delle prestazioni che attualmente la tecnologia metallurgica può fornirci uno su tutti vorrei ricordare ad esempio i coltelli costruiti in RWL che sono è stato certamente uno degli acciai sinterizzati più ben riusciti dal punto di vista chimico e sicuramente uno dei primi quindi quindi il coltello l'S4 di Berggris è certamente un ottimo rappresentante di questa di questa categoria di coltelli ovviamente si parla ripeto di un prodotto decisamente superiore alla linea ad esempio tanto conosciuta prodotta da Gerber che in realtà utilizza acciai direi abbastanza modesti soprattutto nelle versioni precedenti ultimamente è uscito l'Ultimate Pro Knife che comunque ha avuto maggiori assensi nel mondo del coltello grazie a un'intera riprogettazione e l'utilizzo di un acciaio decisamente più performante e più affidabile del precedente bene detto questo credo possiamo terminare qui vi ringrazio per l'attenzione che mi avete concesso vi ricordo nuovamente il mio indirizzo mail che è selvan667 chioceralibero.it per quanti di voi vorranno contattarmi per quesiti per semplici curiosità vi auguro una buona visione dei miei filmati e ci vediamo presto grazie ciao